Si è spento Gianfranco Palazzoli, volto noto e storica voce della RAI. Stiamo parlando del famoso cronista di Viale Mazzini, esperto di F1 e di regolamenti delle corse. Collaborava con il telecronista Mario Poltronieri ed il reporter Ezio Zermiani. A contribuire all'esperienza di Palazzoli sono stati i tanti anni trascorsi in prima persona nei circuiti di MotoGP e di Formula 1. Il cronista Gianfranco Palazzoli, all'inizio del 2023, aveva subito la frattura di un femore. Dopo l'intervento, si trovava in una fase di recupero. Nel giro di pochi mesi, è subentrata, però, una ricaduta per cui è stato necessario, un secondo intervento. Tale intervento è risultato fatale, a seguito di complicazioni post-operatorie. Si è spento all'età di 89 anni all'ospedale San Carlo di Milano, dove era ricoverato. Questa è stata la causa della morte di Palazzoli, grande voce e volto della RAI, esperto di Formula 1 degli anni 80 al 90. Gianfranco Palazzoli era noto con l'appellativo di Palgio. Ha intrapreso la sua avventura da giovanissimo nell'ambito del motorsport, inizialmente nelle vesti di pilota di moto. In seguito, è passato alla Formula 1, con cui ha ottenuto ottimi risultati. È stato direttore sportivo un della F Scuderia Osella, di Tyrrell, Merzario, Tolemane Williams. È passato poi in Alfa Romeo come responsabile nelle corse turismo. Successivamente, ha svolto l'attività di commentatore tecnico del Circus per la RAI. Sentite condoglianze alla famiglia.